Come ogni anno sono tante le iniziative in tutto il mondo legate alla giornata della memoria in cui si commemora la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa avvenuta il 27 gennaio 1945. Il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha voluto esprimere un sentito messaggio di vicinanza alle comunità ebraiche residenti in Sicilia e alle famiglie di tutti coloro che hanno pagato il prezzo della violenza, della discriminazione e dell'intolleranza. Anche la Sicilia, ha continuato il Governatore, è stata teatro tra il 1938 e il 1945 di quelle profonde ingiustizie che hanno segnato per sempre le sorti di ebrei, italiani e stranieri, ma anche di numerosi siciliani che furono catturati e deportati nei campi di concentramento. È impegno solenne di questo Governo prevenire e combattere ogni germe di razzismo che possa insinuarsi nella nostra comunità, promuovendo quanto più possibile della conoscenza della storia. È un'informazione che si richiama ai valori della solidarietà, della convivenza e della tolleranza. Gli unici, ha concluso Schifani, che possano dirsi alla base di una società giusta e solidale.